Sono Celeste Manfredi, sono uno specialista in urologia. In realtà il mio principale campo di interesse è l'andrologia, la medicina sessuale. Siete qua per sapere dell'urologia, non di me. Sappiate semplicemente che il mio percorso è stato formativo principalmente alla Lanvitelli come specializzando e sono stato poi all'estero per formarmi clinicamente in Spagna, a Madrid per quasi due anni in chirurgia andrologica, successivamente sono stato al Rush Medical Center di Chicago per fare una fellowship di ricerca di circa un anno. E questa è la mia vita oggi tra sala operatoria, congressi e la docenza fatta tra università e CTO. Ora oggi vi svelerò un segreto, cioè vi dirò perché l'urologia è la migliore branca che voi possiate scegliere o forse perché è la peggiore in assoluto. Innanzitutto iniziamo a parlare della specializzazione. Che cos'è l'urologia? Sembra scontato ma non lo è, soprattutto quando si ha a che fare ovviamente con i pazienti. È una branca medico e chirurgica che si occupa della salute dell'apparato urinario maschile femminile e dell'apparato genitale maschile. Quindi sì, gli urologi sono anche chirurghi, non sono solo medici. Si occupano di specifici apparati, non si occupano di altre cose. L'urologo non si occupa della patologia medica del rene perché se ne occupa il nefrologo, non si occupa dell'apparato ovviamente genitale femminile perché se ne occupa il ginecologo. Noi siamo gli idraulici del corpo umano, siamo gli idraulici della medicina. Abbiamo a che fare con tubi, con liquidi. Che deve avere un buon urologo? Per essere un buon urologo appunto. Deve conoscere bene la materia, avere un certo ragionamento clinico, una certa manualità e saper comunicare, essere empatico. Però a Napoli si dice nessuno nasce un barato. Che vuol dire? Vuol dire che questo vale soprattutto per la manualità che anche i più esperti, anche i grandi maestri sono stati una volta principianti. Quindi per chi volesse fare l'urologo, il chirurgo in generale, si ricordi che non deve mai lasciarsi condizionare da quello che dicono gli altri. Non hai la manualità, tu non sei portato, non esiste. basta esercitarsi e si diventa bravi. Come in tutta la medicina esistono tante subspecializzazioni. Abbiamo l'urooncologia, l'endurologia che si occupa di calcoli, di ipertrofia prostatica, i tumori di urinaria, andrologia, urologia funzionale, chirurgia dell'uretra, urologia ricostruttiva, trapianti renali e urologia pediatrica. Queste sono forse le principali. Abbiamo le iper specializzazioni, ma è inutile scendere così nel dettaglio. Fondamentale l'urologo, ma in realtà tutti i medici ormai lavorano in equip. C'è una gestione multidisciplinare del paziente. Lavoriamo ad esempio nei gomm, insieme al radiologo, al radioterapista, all'oncologo, allo psicologo, al nefrologo. E diverse subspecializzazioni in realtà sono compartite con altri professionisti. È facile trovare l'andrologo che in realtà è endocrinologo, ovviamente non opererà. È facile trovare l'uroginecologo che fa il ginecologo e così via. Perché è bella l'urologia? Noi siamo la branca probabilmente più tecnologica oggi nel 2024. Se pensate al robot, pensate a tecnologia, dovete pensare all'urologia. Dalle statistiche il 50% di tutti gli interventi chirurgici negli Stati Uniti e in Asia sono fatti dall'urologia con il robot. E non abbiamo soltanto il robot, ne utilizziamo anche il laser, per esempio, per fare trattamento di hiperplasia prostatica benigna, di calcolosi. Utilizziamo la microchirurgia, tipicamente nella fertilità. Oggi si sta molto parlando delle ricostruzioni 3D, dei modelli 3D preoperatori, dello studio diagnostico approfondito, di cui l'urologo, insieme ovviamente al radiologo, sempre in un gruppo multidisciplinare, è un membro fondamentale. E poi utilizziamo dei device tecnologicamente avanzati, come possono essere una protesi peniena tricomponente o uno sfintere urinario artificiale. Sono tutte cose che l'urologo, che si iper specializza in vari campi, maneggia tutti i giorni. Pro e contro? Pro, come detto, elevato livello di specializzazione e competenza. In un ospedale, se non c'è l'urologo, si sente. Nessuno può fare l'urologo se non l'urologo. Esperienza clinica diversificata, ve l'ho dimostrato con tutte le sub specializzazioni, quindi potete andare verso la vostra inclinazione. Se decidete che l'andrologia è la vostra strada, potete decidere di fare gli andrologi col tempo. Un'altra cosa. Possibilità di fare la chirurgia, contatto con tecnologie all'avanguardia, potete migliorare realmente la qualità di vita dei pazienti con l'urologia. C'è tanta, tanta richiesta. Oggi posso dire che il 99,9% degli urologi che conosco lavorano a tempo indeterminato e c'è una buona remunerazione perché l'urologia è una di quelle branche clinico-chirurgiche con una ampia attività e possibilità di privato. Contro? Sono tutti legati alla chirurgia. L'urologia ha un elevato carico di lavoro, regato alla sala operatoria, c'è una grande pressione emotiva mentale, c'è un rischio significativo di denunce, il premio assicurativo è alto e non è una branca da schifettosi. Siete a contatto con urina, sangue, spesso sperma e quindi avete il rischio biologico oltre al rischio radiologico perché lavoriamo in sala spesso anche con la guida fluoroscopica. Siamo simpatici. Noi tra i vari specialisti siamo spesso i simpaticoni del gruppo. Probabilmente non siamo i migliori a fare ricerca. Probabilmente se la vostra principale inclinazione è la ricerca dovete fare altro. Però io per esempio sono un caso già a parte, mi piace questa cosa e la faccio. Quindi è sempre dalla propria inclinazione personale. E poi c'è il problema, il grande problema del gender equality. È un problema che, come hanno detto prima nella relazione di donne in chirurgia, per fortuna sta migliorando. Diciamo che dall'ultimo census fatto l'Associazione Americana di Urologia circa il 10% delle donne è urologo. Questo vale per tutta la chirurgia questa inequality, però per l'urologia si sente di più perché spesso ovviamente si parla del pene, dei testicoli e quindi la donna a volte è inibita dall'iscriversi a questo tipo di specializzazioni. A parte che la situazione appunto sta migliorando perché sta aumentando la percentuale, io dico che se l'urologia è quello che vi piace, fatela. Non vi fate scoraggiare. Vi dico di più, anche andrologia, che è proprio quella branca specifica che si occupa dell'apparato genitale maschile, da donne può essere fatta tranquillamente. Sì, ci sarà da parte dei pazienti, soprattutto nel sud Italia, qualche riserva in più, ma ragazze, c'è di peggio. Assolutamente, se è la vostra strada, sceglietela senza nessuna remora. Attività quotidiane. Il quadro è abbastanza veloce perché è scontato. Sala operatoria, 5-10 ore al giorno, più volte a settimana. Ecco perché è una branca pesante. Ovviamente la sala operatoria non è solo quello. Da specializzante si fanno le cartelle cliniche, gli esami, le consulenze preoperatorie, la consegna degli istologici, ambulatorio, visite, medicazioni, biopsie prostatiche, cistoscopia, urodinamica, sostituzione di tutori ureterali, stilazioni endovescicali, gestione giornaliera del paziente operato, consulenze con altri reparti, pronto soccorso nelle strutture in cui vi è pronto soccorso, con coliche renali, ritenzioni urinarie, retorsioni testicolari e mature da gestire giornalmente. Guardi e reperibilità. Se vi iscrivete a urologia da specializzanti e poi da specialisti probabilmente dovrete fare weekend, festivi, super festivi, notti e poi quello che non piace a nessuno ma ce l'hanno tutte le branche e non solo l'urologia, un mare di burocrazia, pianificazione e organizzazione che vi tocca. Percorso di specializzazione. Cinque anni, durante il quale farete tutte le attività dal reparto alla sala operatoria, all'ambulatoria, alle consulenze, al PS, più lezioni teoriche periodiche che vengono organizzate da ogni scuola. Questa è la regola d'oro e varia in tutta la medicina. Prima studio, poi osservo, poi aiuto e alla fine divento autonomo in qualcosa. E allora questo è un percorso, un esempio che potrebbe essere il percorso di uno specializzando di urologia. Ovviamente dipende da scuola a scuola. Comincio facendo le preospedalizzazioni del reparto, facendo l'ambulatorio delle medicazioni, imparando a fare biopsie prostatiche e cistoscopie, col tempo inizio a fare visite e consulenze in autonomia, piccola chirurgia open ed endoscopica e arrivo l'ultimo anno, anno e mezzo, che sono piuttosto indipendente nella media chirurgia open ed endoscopica, oggi soprattutto endoscopica più che open, parlo soprattutto della chirurgia andrologica quando parlo di open, e assistenza soprattutto, bisogna sapere aiutare sulla chirurgia robotica. C'è la possibilità di ruotare in altri reparti, c'è la possibilità di andare in rete formativa e di fare ruotazioni sia nazionali che internazionali, si parla di fellowship. Voi avete diritto fino a 18 mesi extra rete, quindi un ospedale che non è previsto dal vostro, basta che ci sia un accordo. Ci sta la possibilità di formarsi in congressi, in urologia si fanno una maria di congressi, corsi teorici, corsi pratici, in urologia si organizzano corsi su simulatori, animali, cadaveri, pazienti, c'è tanta possibilità di formarsi, ovviamente bisogna volerlo. Non dimenticate che avete la possibilità di scrivere a master durante la specializzazione, avete possibilità di scrivervi a un dottorato di ricerca durante la specializzazione. E questa è una cosa tipica dell'urologia, una delle esperienze più belle che si possa fare da specializzando, l'Eurep. L'Eurep è un grande congresso che negli ultimi anni si fa sempre a Praga, che vede coinvolti gli specializzanti all'ultimo anno di urologia di tutta Europa, che si uniscono in questa aula enorme, dove ci sono i più grandi esperti di tutte le varie iper specializzazioni dell'urologia che fanno lezione e quindi preparano a un esame che non è obbligatorio, che si chiama EBU, per diventare fello dell'EBU, quindi FEBU, che è assolutamente un'esperienza imperdibile che vi permette di instaurare anche amicizie che poi dureranno anni con altre persone, spesso di altre nazioni. Che cosa deve avere uno specializzando quando ha finito la specializzazione? Conoscere le mie guida, capacità di diagnosticare clinicamente le più comuni patologie urologiche, capacità di indicare correttamente indagini diagnostiche e procedure chirurgiche per le più comuni patologie, autonomia del trattamento medico delle patologie urologiche, esecuzione autonoma di tutte le procedure ambulatoriali, cistoscopie, biopsie, flussometrie, ecografie, autonomia su piccole e medie chirurgie e capacità di aiuto sugli interventi di grande chirurgia e di gestione delle urgenze urologiche. Ricordate, come dice mia nonna, che non si finisce mai di imparare. Voi non finirete la specializzazione in neurologia sapendo fare una prostatettomia radicale, una cistectomia radicale probabilmente, ma il grosso della grande chirurgia si impara dopo. Quindi non abbiate paura di quei centri dove vi dicono lo specializzando al quinto anno non sa fare le cistectomie. È in Italia almeno la normalità. Eccellenze italiane. Questa è una slide da foto, se volete vi fate una foto. Sono semplicemente alcune scuole dove c'è una certa eccellenza verso qualcosa. Per cui urooncologia e chirurgia robotica, probabilmente almeno come numeri, Careggi di Firenze, Ieo Milano Statale, Humanitas Milano e Sant'Orso hanno quantomeno i numeri più alti. Poi i numeri sono una cosa, quello che vi fanno fare è un'altra. Però questi sono i numeri più alti. Andrologia e chirurgia ricostruttiva, Torino Molinette, Foggia, Trieste, Endorologia Calcolosi, Lavanvitelli dove lavoro, ma anche Ville Turro, San Raffaele a Milano, Endorologia per l'imperprasa prostatica a Benigni e Sant'Andrea con il professor Denuzio e il professor Etubano, è un grande centro, il Careggi a Firenze, urologia funzionale Terni con la professoressa Costantini, in riguarda di Milano dove ci sta l'unità spinale che oggi sta andando molto forte, trapianti renali a Bari e Novara e la ricerca, il San Raffaele che vince per quanto riguarda la ricerca probabilmente in tutte le branche. Si può lavorare dopo? Sì, si lavora nell'ospedale pubblico, nelle AS, cliniche private e convenzionate, centri diagnostici, studi privati e visite specialistiche domiciliari. Sappiate che ovviamente serve fare un concorso pubblico per entrare nelle strutture pubbliche, ma oggi possiamo dire che il 90% dei neospecialisti in urologia entro i primi due anni di specializzazione è assunto a tempo indeterminato in una struttura pubblica, questa è la elevatissima richiesta che c'è. E tra l'altro col decreto Calabria ricordiamoci che i specializzanti di tutte le branche, compresi quelli di urologia, dal secondo anno possono partecipare a concorsi pubblici. Se vincono continuano la loro formazione all'interno dell'ospedale dove hanno vinto il concorso e appena si specializzano vengono assunti a tempo indeterminato. Oggi in urologia tanti specializzanti al quarto, quinto anno sono già assunti col decreto Calabria e quindi saranno prossimi al tempo indeterminato. potete fare tanta attività privata, visite mediche, procedure diagnostiche, trattamenti ambulatoriali, interventi chirurgici. Il grande vantaggio è che queste pratiche non costano tanto, cioè c'è possibilità ad esempio di affittare uno studio, non avere uno studio di proprietà, questo vale per tutti, ma soprattutto gli strumenti diagnostici e terapeutici per aprire uno studio privato costano poco, non stiamo parlando dell'oculistica per esempio dove ci sono macchinari che costano migliaia, migliaia e migliaia di euro. Qua ti compri un ecografo da qualche, diciamo puoi comprartelo anche a 3-4 mila euro, flussimetro, cistoscopio, monouso, qualche ferretto e l'attività privata si fa. E questo è l'ultima slide, il marketing. Lo dico perché l'urologia è probabilmente insieme alla chirurgia plastica e alla dermatologia una delle branche più sensibili al tema marketing. ci sono una marea di colleghi che ormai stanno su TikTok, su Instagram e si pubblicizzano. Io penso che questo ovviamente è il futuro anche dell'attività private, quindi in urologia si sente tanto e quindi sappiate che se scegliete l'urologia vi troverete a competere anche con il social media marketing. E se avete qualsiasi dubbio ovviamente potete scrivermi a qualsiasi di questi indirizzi. Grazie.